Grazie a voi. Quindi qui stiamo stendendo della pasta all'uovo che andremo poi a rimanere con una faccia di spinaci e ricotta che andremo poi a coprire con un'altra sfoglia per creare appunto i ravioli. Io adesso vado a rimanere. Ecco questa è una delle varie preparazioni che i ragazzi svolgono durante tutto il loro percorso scolastico imparando a lavorare anche una pasta all'uovo per le varie preparazioni sia farcite che i classi che tagliudini, tagliatelle e i vari prodotti finiti. Grazie a tutti i ragazzi di cucina. Adesso vi faccio un piccolo passo sulla teoria che dice che il primo anno voi avete un piccolo corso di HCCP ossia sulla sicurezza sia degli alimenti che andremo a maneggiare sia dei laboratori di 7 e 6 in modo da poter entrare e far parte del nostro percorso. Adesso lascio sempre in materia di alimenti alla professoressa Zucaccia di Alimentazione. Buonasera, buonasera, ben trovati.